Invece, per tutti coloro che vengono da Catania, ci sono tre giovani promettenti, tre comici supereroi, loro sono gli A.I.P.O.F. Noi siamo i Fantastici 4! Ma ogni è un 4? Io sono Mr. Fantastici e l'ho tutto coso, Rossi. Io sono una donna invisibile, posso sparire quando voglio, ma sono anche una donna bellissima, ho dei figli meravigliosi, tutti di me hanno preso. Ma faccio una parmigiana, magari che... Eeeh, vieni che cosa l'ho qui! E io sono la torcia umana e mi sento tutto il fuoco di dentro! Ah certo, grazie ai tuoi superpoteri! No, mi sa che mi sta chiedendo la frepi! Ragazze, ma dov'è la cosa? Ma cosa? Ma la cosa cosa per che cosa? Ma la cosa cosa per che cosa? La cosa cosa per che cosa? Eeeh, la cosa, caruso, il nostro compagno, quello di Pietra, che non l'ha grande, vai! E qua! Eeeh! La cosa è a mare che sta lavorando! Ah si, come un bagnino che hanno dei muscoli! No, come un scoglio, chieni lippo! Ragazzi, dobbiamo fare delle missioni, se no ci scancellano dall'albo dei supereroi e saremo coscietti a fare dei lavori veri! Eeeh, io ci ho provato e mi facevano lavorare soltanto per la festa di San Dago da Catania! Eeeh, roba bello è che arrumava i fuochi d'atteficio, allora arrumava i cannelli per la processione! Eeeh, che fu? Che fu? Che fu? Che fu? La missione! Eeeh! 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 Eeeh no! Ci ha già pensato Iron Man! Ma basta con sto Iron Man! Ma non ci può rubare tutte le missioni! Io ho il mio da fare, me ne vado a casa! Ciao! Eeeh! 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 Che hai scelto? Tu sei tutto gomma! Kit è tutto ferro! Eeeh! Eeeh! Eeeh!